Striscia la notizia a Domenica Live, spunta una nuova testimonianza a favore di Avenger Barbara Durso ha ascoltato una nuova testimonianza di Striscia la notizia sul Cannagat dell'Isola dei Famosi Domenica Live continua ad occuparsi de Cannagat dell'Isola dei Famosi. Nell'ultima puntata del talk show di Canale 5 sono intervenuti Valerio Staffelli e Max Laudadio, inviati di Striscia la notizia, che hanno portato a Barbara Durso una nuova testimonianza a favore di Avenger La conduttrice napoletana ha ascoltato il lungo audio e ne è rimasta sconvolta Barbarella ha successivamente invitato i collaboratori di Antonio Ricci a far ascoltare quella prova ad Alessia Marcuzzi, in modo da poterne parlare ampiamente e giustamente nella prossima puntata del reality show Domenica Live, Barbara Durso scioccata dalla situazione Dovete farlo sentire ad Alessia, che saprà cosa fare all'Isola dei Famosi. Io evito, deve farlo la Marcuzzi, che è una conduttrice, che stimo ha chiarito Barbara Durso agli inviati di Striscia la notizia Al suo pubblico la napoletana si è limitata a dire, c'è un'altra persona, che ribadisce che quello che diceva è vero La Durso non ha aggiunto altro, la testimonianza verrà riproposta integralmente nelle prossime puntate di Striscia la notizia. Molto probabilmente prima di martedì, in vista della nuova diretta dell'Isola dei Famosi. Chi avrà parlato dopo Chiara Nasti? Barbara Durso non svela, chi ha parlato in favore di Eva? Intanto a Domenica Live, Craig Warwick e Cecilia Capriotti hanno preso le distanze da Avenger, ribadendo quanto già ha precisato nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, entrambi non hanno visto Francesco Monte fumare canne Grazie a tutti